Ed eccola lì, la droga, come prima Ma quanta ce n'hanno buttata dentro? Quanta droga ci hanno infilato in corpo A parte che sto tizio è cattivissimo Sto tizio qua è cattivissimo Amma mia Che stronzo sto tizio Come la prima volta è ovvio che non ti rispondo Armi finte se posso dirlo Quello non è colpa nostra Eh proprio Sto tizio qua è veramente uno stronzo ma proprio brutto 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 Capisco Capisco Tieni la penna Questo sarebbe un tizio da cui risvegliare il cuore Ma proprio brutto 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 C'è un meme di questa scena dove siccome siamo sotto effetto di droga Firma tutto sbiacico Forse avremmo dovuto drogarlo dopo averlo fatto firmare Ed è domenica Ed ecco Sai Nijima che arriva Per ascoltare tutta la storia Mi scusi ma quest'area non può accett... Sono Nijima dell'ufficio del procuratore L'ufficio del procuratore Cosa la porta qui? Fatemi passare E' urgente Devo verificare alcune cose con il sospetto Nijima san Temo che il caso non sia più sotto la sua giuristizione Inoltre... Lei è il procuratore Sai Nijima E' arrivata una chiamata dal suo direttore Si sbrighi e finiamola Francamente Lei ci sta disturbando qui Devo di averle ordinato di restare in attesa Sono responsabile di questo caso Ma non mi ha nemmeno concesso un interrogatorio L'ho chiamata perché sapevo che avrebbe sollevato una questione Non sarò convinta finché non verificherò di persona Questo è il mio caso Allora buona fortuna Non mi aspetto molto però Ah procuratore Ho dimenticato di dirle una cosa importante Non avrà molto tempo Avrà solo 5 mesi Non possiamo permetterci che parli troppo a lungo con lui E' per il suo bene I suoi metodi sono ancora ignoti Non sappiamo nemmeno se sicuro andare lì dentro a parlare con lui Capisco Ed eccoci arrivati dove siamo Complimenti per essere arrivato fin qui prigioniero Ora che hai finito il lungo e pericoloso viaggio nei ricordi Sei davvero tornato al presente Gli effetti di quella droga svarieranno presto È la tua occasione d'oro Devi afferrare la verità che ti salverà dalla rovina L'influenza malvagia di chi desidera la tua morte si sta avvicinando Se vuoi vincere questo gioco irrazionale Se vuoi riappropriarti del tuo futuro rubato Ricorda i legami stretti con i tuoi alleati E afferra la verità che ti salverà dalla rovina E Igor tanto se la ride tanto Insomma fidati dei tuoi campagni Capisco E così sei finito qua Che fine deludente per un eroe della giustizia Non riesco ancora a crederci Ma ora ho un'idea di massima dei vostri metodi criminali Vorrei chiederti ancora molto Ma il tempo a mia disposizione è quasi scaduto Avrei un suggerimento però Vorresti stringere un accordo Se collabori con me Valuterò se alleggeri la tua sentenza Cosa vuoi? Risolvere questo caso è una mia responsabilità Vincerò anche a costo di stringere un accordo C'è stata una soffiata sull'ultima operazione E non hai risvegliato il mio cuore Non serve intestardirsi Hai corrotto l'ordine di questa nazione È causato una rivolta contro la sua stessa esistenza Ti daranno il carcere a vita O la pena di morte A meno che non accetti la mia proposta Adesso leggerò una lista di persone collegate a te E a questo caso Dimmi in tutta onestà se le seguenti persone sono coinvolte con i ladri fantasma Il tuo amico sin da quando sei arrivato alla Shujin Ryuji Sakamoto Una delle vittime di Kamoshida Antakamaki L'allievo di Ichiruzaki Madarame Yusuke Kitagawa La figlia di Wakaba Ishiki Futawa Sakura L'erede dell'Ukumura Fuze Figlia dell'amministratore delegato Haru Kumura Infine l'inquisitiva presidente del consiglio studentesco della Shujin Academy Makoto Nijima Sono loro i tuoi complici nel caso dei ladri fantasma, vero? No Non tradirei i tuoi amici Allora cambio domanda Trovo difficile credere che dei liceali siano stati in grado di fare tutto questo da soli Siete stati aiutati e incoraggiati dai vostri crimini da altre persone al di fuori del gruppo Non per ripetermi Ma ricorda che potresti perdere la vita se non cerchi di alleggerire la sentenza Hai potuto contare sulla collaborazione di persone esterne al gruppo, vero? Puoi parlarmi di loro? Non c'era nessuno Capisco Per cui non parlerai né dei tuoi compagni né dei tuoi collaboratori Capisci almeno in che situazione ti trovi Parliamo dell'altra persona ora, Goro Akechi I rapporti indicano una sua collaborazione con i ladri fantasma Anche lui è parte della tua squadra, non Akechi Per cui Goro Akechi non c'entra Molto bene È evidente ormai che non hai intenzione di stringere un accordo Esatto Anche adesso ti comporti come un qualche eroe della giustizia I tuoi compagni di squadra ti hanno tradito per scappare Ma tu continui a difenderli lo stesso Perché non mi parli di loro? Perché hai sbagliato Sei ridicolo, le scelte sbagliate sono le tue La chiami giustizia questa? Giustizia? Dimmi, quale sarebbe questa giustizia di cui parli? Fare le scelte giuste Fare le scelte giuste Non è diverso da noi Persino a non pie... persisti a non piegarti Forse perché credi che non abbiamo prove contro di te Hai ragione, non ne abbiamo E non aiuta il fatto che la tua storia sembri un urban fantasy Ma le vittime sono state troppe Dobbiamo scoprire la verità La verità è... non so più cos'è giusto e cos'è sbagliato Ormai tutto è grazie alla tua storia E il vero colpevole? Dopo tutto questo tempo Se è ancora... L'effetto del narcotico comincia a svanire Mi stai ascoltando L'effetto collaterale del siero della verità sta svanendo Non mi farò ingannare della tua recita Non mi farò ingannare Ho come la sensazione di aver dimenticato qualcosa di importante L'hai capito anche tu quindi Perché abbiamo parlato di pancake giusto? Non avrebbe reagito così se non mi avessi sentito Ehi Riesci a sentirmi? Sembra che la tua mente si sia schiarita Ma sfortunatamente il tempo a mia disposizione è scaduto Per quanto abbia trovato la tua storia interessante Non potrò parlarne ancora con te Non vuoi vincere? Eh? Cosa stai insinuando? Esatto, a prescindere dal risultato di questo caso Non avrò riconoscimenti Ho dovuto riscuotere un grosso favore Solo per tenere questo interrogatorio Sala interrogatori? È vero, riuscissi a ricordare Com'è andata con quella cosa che ti abbiamo chiesto di cercare? Nijima, c'è nata una stanza degli interrogatori speciali, giusto? Ottimo, se li attiriamo lì forse potrebbe funzionare Ehi Ehi, mi stai ascoltando? Il tempo è scaduto Abbiamo finito qui Era questo il tuo piano Piano? Perché mi fai domande strane? Comunque, c'è un'ultima cosa che vorrei chiederti Una cosa sulla quale mi sto scervellando da parecchio Di recente sono stata rimossa dalla posizione di capo dell'indagine con l'ordine di restare in attesa Dopo poco tempo ho saputo che eri stato catturato nell'ambito di uno strano fenomeno Ma non mi hanno detto altro Ti hanno detto che sei stato venduto, vero? Se questo è vero, chi può essere stato? Hai qualche sospetto? Venduto? Esatto, c'è una cosa che devo fare Alla fine i miei sospetti erano fondati Ancora non riesco a credere che volessi tradirci sin dall'inizio Chi sarà stato tradirci? Makoto? Aru? Ryuji? Ann? Dobbiamo solo capire come daglielo Va bene, ci penso io Va bene Dagli il telefono senza destare sospetti sarà più facile a dirsi che a farsi Contiamo su di te C'è qualcosa che non va Hai un'idea di chi ti abbia tradito? Voglio fare un accordo Sì, molto bene, vai avanti Se hai qualcosa, devi dirmelo Non permetterò che finisca così Il telefono Parli di questo? Mi è stato detto che il blocco è molto complicato, ma è solo una questione di tempo Cosa c'è di così importante in questo smartphone? Vuoi sbloccarlo e mostrarmi i dati? Oh, si è addormentata Lasciamola dormire Ma sta dormendo su un manga di Ryuji A parte che com'è carina senza occhiali È rimasta svegli a giorni per preparare quell'app Ora dobbiamo trovare un modo per mostrare a lui il telefono Mostrarlo? Esatto, ma Koto e gli altri dovrebbero avertelo detto Dobbiamo mostrarlo al vero criminale Sai, il traditore Quindi è un maschio Ehi, dove vuoi arrivare? E cosa c'entra questo smartphone? Mostralo al traditore Il traditore Potremmo dire che ha rubato l'arma della guardia e si è suicidato durante la prigionia Che dite? L'interrogatorio della pubblica sicurezza sarà il primo giorno E in quella stanza avrò gioco facile E così il pericoloso criminale responsabile degli arrestimentari Porrà fine alla sua vita Per favore Devi essere chiaro con me A chi lo devo mostrare? Non a un compagno di squadra Non un compagno di squadra Mio dio Ti riferisci a lui, vero? Devi fidarti Cosa stai progettando? Non riesco a capirlo Ma il mio tempo è scaduto Non possiamo parlare oltre Non sarò più coinvolta in questo caso E sia, ho ascoltato la tua storia Tanto vale andare fino in fondo A quello sguardo sincero nei tuoi occhi Anche io guardavo il mondo così un tempo E va bene, scommetto su di te Devo solo mostrargli il telefono, vero? Esatto Sento che sai, finalmente mi capisce Io sono te, tu sei me Hai trasformato un'alleanza in un patto di sangue Questa legame diverrà alle ali della ribellione Spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore Hai infine disvelato il segreto più ricondito del giudizio Che ti conferirà un potere infinito Grazie sai di avermi ascoltato fino alla fine Rango massimo Giustizia suprema Collavorare come compagni che lottano per la giustizia e la verità Non è un vero power up, ma grazie Abbiamo sbloccato Satana Ora devo andare Mi chiedo cosa può risultare Eccolo qua Goro Akechi Akechi-kun, perché sei qui? Perché sei così sorpresa? Per avere l'accesso ho dovuto fare intervenire il mio capo Anche se questo era il mio caso Come hai avuto l'autorizzazione? Proprio come lei Dopotutto sto guidando io la squadra investigativa È naturale che abbia anch'io il diritto di interrogare il nostro colpevole Non trova Ti hanno assegnato il comando? Scherzavo, ovviamente Sono qui per l'interrogatorio della pubblica sicurezza Fornisco assistenza Mi sorprende che questo posto scenda tanto in profondità Non ci sono altri prigionieri qui, vero? Se le cose prendessero una piega più violenta del solito Nessuno lo verrebbe a sapere Se non ricordo male Non avevi parlato di un altro colpevole oltre ai ladri fantasma Era solo una bugia necessaria per incastrarli Oh, le chiedo scusa Devo aver fuorviato anche lei, Sar-san Sai-san, me ne ero dimenticato Dopotutto se vuoi ingannare i tuoi miei nemici Sì, devi prima ingannare i tuoi alleati Per cui sei stato tu Sei tu che hai tradito i ladri fantasma Devi essere chiaro con me A chi lo devo mostrare? Mio dio Ti riferisci a lui, vero? C'è qualche problema? Akechi-kun, questo telefono ti dice nulla? Mh? Scusi? Cos'è questo telefono? Apparteneva al leader dei ladri fantasma Credo potrebbe servirti per la tua indagine Non è... non a me personalmente Agivo insieme ai ladri fantasma, ricordi? Vero, è indubbiamente un risultato notevole Buona fortuna là dentro Che strano Stupida donna Che bel sorrisetto Akechi Sei un traditore coi fiocchi, lo sai E io, comunque, ti consideravo un amico Ti dispiacerebbe accompagnarmi? Interrogare disarmato un omicida mi inquieta Certo, come vuole Mi scusi, eh? Cosa stai? Che cazzo... Sono morto Ti sono riconoscente per tutto questo Grazie Esatto Tu e tuoi amichetti eravate fondamentali per il mio piano Che ora sarà portato a termine Mi ha impressionato vedere quanto foste famosi Il che ha reso ancora più utile usarvi Akechi L'hai ucciso Che sorriso Cosa avremmo potuto fare se non restare fermi? Cosa avremmo potuto fare se non restare fermi? Si è rotta una tazzina E si è preso il silenziatore come ricordo Addio Goro È stato bello Il mio lavoro è compiuto Shido-san Ti ho detto di non chiamarmi con quel nome Dobbiamo comunque ancora occuparci dei rimanenti Una serie di adolescenti morti sarebbe un po' troppo da coprire Non crede Pensavo di far credere che abbiano avuto degli screzi Ma getterebbe benzina sul fuoco dei media Sarebbe meglio se ciascuno di loro avesse uno sfortunato Incidente una volta calmate le acque Qualche possibilità che vogliono vendicare il proprio leader? Nessuna Sono solo pecore Nulla senza la loro leadership Li terrò d'occhio Per sicurezza Conto su di te Passeranno il resto della loro vita a temere la morte Una punizione adeguata per averci intralciati Assicurati anche di uccidere quello strano gatto Quando riuscirai a trovarlo Certamente Anche se dubito che potrebbe creare problemi In fondo è soltanto un gatto Un gatto che ha detto Pancake Pancake E tra l'altro È probabile che si stiano occupando del suicidio in questo momento Ci sarà molto da fare Quando comincerà a diffondersi la notizia Devo preparare i miei commenti Devo prepararmi a gestire anche io la cosa Oltre a ciò E il direttore del WIS Ho sentito dire che c'è una malattia misteriosa in giro Non può essere Anche Sono morto Oh finalmente Non devo più fare la voce di sto vecchio Perché mostragli questo telefono? Il ladro fantasma Alibaba? Chi è? Sono Alibaba Membro dei ladri fantasma Invoco il tuo senso di giustizia Sai Nijima Come sanno che ce l'ho io? Goro Kechi è malvagio Non è venuto a interrogare il ladro fantasma arrestato È venuto ad ucciderlo Potremmo dire che ha rubato l'arma della guardia E si è suicidato durante la prigionia Che dite? Ah già non è Ryuji La guardia sarà dei nostri Però dovremo eliminarla per distruggere le prove Non fidarti neanche della guardia È un complice anche lui Ora ti spiegherò nel dettaglio i passi da compiere Devi salvare Phoenix Star Vuoi che lo salvi? Come faranno a salvarlo? Come faranno a salvarlo? D'altronde Sai Ci hanno appena sparato Che c'è? Ah niente Comunque cosa ci fa qui? Pensavo avesse finito Nessun altro è passato di qui? Nessuno? Nessuno avrebbe motivo di venire fin qua giù Sì la guardia sarà dei nostri Però dovremmo eliminarla per distruggere le prove La guardia è ancora viva Allora è vero Certo che è vero Qualcosa non va Akechi-kun ha ricevuto una chiamata Non potrà venire qua giù oggi Mi è stato chiesto di occuparmi io della situazione Lei? Lei? Ma Sa Se lei rimanesse qui Probabilmente la eliminerebbero per cancellare ogni prova Le consiglio di nascondersi Se ci tiene alla vita Sì signora E non dica una parola di quanto è successo qui Non si fidi di nessuno Dimentichi ogni cosa Cazzo Ma ne vado io Qua mi fanno fuori Bella Questa scena qua è bellissima ora Credetemi che è bellissima Perché sono tutti iper sorpresi Ti va? Guarda Ryuji come è distrutto 12.000 yen Se vuoi te li do No non più Mi hanno spaccato le gambe No non più Non è vero, non è vero. Guarda com'è preoccupato Guarda com'è preoccupato Vorrei capire cosa c'è scritto Su quelle robe Ma quella è Han credo C'è perchè dim lanz Problema Non lo 내 Io pensavo che devi perdere Oh Crescente Oh Il maggiore Triple Le dovединere Insistenti Ma Andai D Wo Ma E Ma E Ma Guarda che volano via gli uccelli. Ma che cazzo ne sai? Tu stai zitto, coglione! Adesso ti e che c'è la data, che ci sono i tu. C'è la data di scelte che c'è il rapporto. Sto faremo il rapporto, che c'è il rapporto che c'è il rapporto che c'è il rapporto. Il rapporto di nuovo, è il rapporto che ci sono spostato. È il rapporto che c'è il rapporto che c'è l'altro. Ha, ma l'aiuto che c'è. L'aiuto che riuscita la scelte. C'è stato molto forte. Sono tutti disperati Guardali Sono tutti disperati Per la faccenda Eppure Lui è l'unico che sorride Cazzo Questa scena è bellissima Quando Ryuji sorride Tutto si illumina Ehi là come va? A quanto pare sei stato ucciso Ma ucciso perché? Perché sei dovuto morire Riesci a ricordare Sembra che i tuoi sensi alla deriva Ti abbiano fatto dimenticare un punto importante Quando mi fa Vedere queste scene Mi fa preoccupare Igor Perché mi fa dire Ho fallito La prima volta mi sono preoccupato seriamente Esatto La tua morte è stata necessaria Per sfuggire all'inevitabile Che piano meraviglioso Quando ho letto quella frase Hai mancato un punto importante Perché sei morto? Fa' un culo Igor Mi fai preoccupare Come se è stato in grado di compiere una simile impresa Sopri Bene Vi tocchiamo i ricordi mancanti Va bene Rievochiamo tutti i pezzi che abbiamo mancato Tutti i pezzi dove non c'era l'audio La prima volta che ho intuito che ci fosse qualcosa di strano Giusto Durante il festival scolastico No La prima volta che io ho scoperto che c'era qualcosa di strano È stata il primo gameplay E i pancake È ovvio È ovvio cazzo L'hai capito anche tu quindi Pancaki Perché abbiamo parlato di pancake? Giusto? Non avrebbe reagito così se non ci avesse sentito Sta mentendo Sì La gita di scienze sociali L'abbiamo incontrato nel corridoio di quella rete televisiva Me lo sono chiesto io per primo questa cosa Non è possibile che sia questa la prima volta che sente la mia voce L'intera faccenda puzza Dobbiamo fare attenzione Già Ok Aggiorniamo tutti quanti Ci serve che controlli anche un'altra cosa Clacate E il ricordo si sblocca Abbiamo in mente anche un'altra persona Vorrei se possibile ascoltare le sue telefonate Sarà dura Puoi farcela Futaba Concordo Dovrei piantare una cimice direttamente nel telefono Per cui è impossibile anche per te Non ho detto che sia impossibile Vediamo Ho un piano Vieni qua gattino E pissi 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 Beh è perfetto È un segreto? Tranquillo ti dirò i dettagli più tardi Vieni anche tu Ti do un bacino Futaba farà qualcosa? Spero che funzioni Ci sarà da divertirsi Non vedo l'ora Come si diverte lei Comprendo Pertanto useremo questo luogo Sarà una scommessa Credo funzionerà È impossibile scoprirlo Finalmente ricordi Questo gioco Non è ancora finito E qua ti si apre il mondo della serie Sì cazzo Non ho sbagliato nulla Restano ancora molte cose da fare La mia memoria comincia a schierirsi Giusto? In quel momento È questo che mi è successo veramente Quando Akechi se ne andò Tutto sembrava finito Ma la realtà È che non erano niente più che illusioni Niente più che ombre Cazzo È vivo Vuoi salvare i tuoi progressi attuali? Ovviamente Il 3% addirittura Mamma mia Ho sentito che hanno arrestato uno Del ladri fantasma È impossibile Non credevo si sarebbe suicidato È un assassino Si merita di morire Finalmente possiamo tirare un sospiro di suo lievo Si è ucciso eh Immagino Non sapremo mai davvero il perché No Non lo saprete mai Perché io Sono vivo Sono esausto È come se i miei sensi Stessero venendo meno Ehi Stai bene Non addormentarti Finché non siamo arrivati dove dobbiamo Mi senti? Forse Perché sta svanendo L'effetto della droga I ricordi Che pensavo di aver perso Stanno ritornando Mi stai ascoltando? Sì Assolutamente Comunque Dobbiamo parlare Di come uscire da questa situazione Grazie alla cimice di Futaba Sul telefono Ora sappiamo che Akechi ha un secondo fine Altro che secondo fine È molto peggio Non solo cercava di incastrarci Ma è lui il criminale dietro gli arresti mentali La sua offerta d'aiuto era solo uno stratagemma per incastrare i ladri fantasma E uccidere figli Onyx Se seguiamo il suo consiglio ed entriamo nel palazzo Subiremo un'imboscata dalla polizia Pensare che arrivasse a tanto Non è una metafora se dico che sento un brivido lungo la schiena Vi è più che egli desidera trasferire nel palazzo una squadra della polizia Se noi otto riusciamo ad entrare insieme Non è difficile immaginare che ci riesca un gruppo di persone Potrebbe anche essere in grado di far entrare veicoli o altro equipaggiamento speciale Allora era davvero una trappola per scaricare la colpa su di noi Ci ha messi contro Kumura E non appena il suo cuore si è risvegliato l'ha ucciso E ci ha detto di aver visto il vero colpevole Ma in realtà è sempre stato lui Anche mentre lavorava con la sorella di Makoto Non era altro che un maniaco omicida Dobbiamo abbattere quel bastardo di Akechi Quella registrazione non basta No Akechi è solo uno strumento Prende ordini da qualcuno La mente dietro tutto Un demonio capace di organizzare l'omicidio sospettato Dentro una stazione di polizia E che non scopriamo chi è Anche sconfiggendo Akechi rimarremo in pericolo Ma come possiamo scoprire la sua identità? Akechi vorrà darci il suo nome Anche quando succederà Il grande pianificatore ci vorrà eliminare Succederà comunque Anche che scoprissimo la sua identità o meno Non l'ha ancora fatto Solo perché siamo un bersaglio facile Su cui scaricare i crimini Se si rende conto che non gli conviene più Potrebbe decidere di ucciderci tutti Merda Per cui non abbiamo scelta Se non seguire il suo consiglio dello stronzo Ma se andremo al palazzo Phoenix verrà arrestato e ucciso da Akechi Palazzo Il palazzo C'è una cosa che vorrei dirvi In relazione a Ahah Possiamo usare il palazzo È a nostro vantaggio Che cosa ti è venuto in mente? C'è un modo Un modo per battere Akechi Di distogliere l'attenzione dal mandante E scoprire l'identità Davvero? Ma stai scherzando? Se vuole uccidere Phoenix Lasciamoglielo fare Dentro il palazzo ovviamente Sì Potremmo lasciargli uccidere una copia cognitiva di Phoenix E fargli credere che sia quello vero Esatto È la nostra unica opzione Ascoltatemi gente Possiamo farcela Ma dovremmo seguire il mio piano È lei il capo tanto Cioè Phoenix non conta nulla Sin dalla morte del loro leader adolescente I ladri fantasma sono rimasti in silenzio La polizia ha comunque intenzione Di continuare l'indagine Fino alla soluzione del caso Chiedo perdono per il ritardo Dovevo finire le cose al lavoro Gli altri? Ti aspettano di sopra Di loro discendere Io vado a prenderlo Oh Stanno collaborando Tu sei Sua sorella Sì? Makoto mi ha detto tutto Futaba-chan Scusami se ti ho causato problemi La scorsa estate Tranquilla Storia vecchia Come le piramidi Quel maledetto investigatore però Guardate chi c'è Ciao Sto di merda Senza un segno in faccia Senza Un livido Ehi Strozzo bastardo Come stai? Morte a parte? Vuol dire che stai bene Se scherzi in quel modo E' un sollievo Rivederti Scommetto che Kechi non sa ancora Che l'abbiamo fregato Quel figlio di Come avete fatto? Come fanno a pensare Che sia morto? Non sai ancora nulla Ma se mia sorella Ha portato qui Già E' arrivata in taxi E l'ha scaricato Dicendomi di tenerla sicuro L'altro Giusto dopo l'annuncio Della sua morte A momenti Morivo di infarto Non avevo tempo Di spiegare Ehi Non dovremmo dire al capo Cos'è successo Sì Anche al giocatore Dovevamo far credere Ai nostri nemici Che il leader De ladri fantasma Fosse morto Cosa che siamo riusciti A fare? Cosa? Ci siamo riusciti Facendolo uccidere Una sua coppia Nel metaverso Aspetta un secondo Genici Coppia Di che stai parlando? Il vero colpevole Dietro le raptus Ci ha incastrati Il nostro intento Era scoprirne L'identità Vero colpevole? Capisco Per cui Voi stavate lottando Contro qualcuno Goro Akechi Quello lì Che mi ha preso il caffè Qui Sapevate già Che il traditore Era lui Vero? Akechi Ha sbagliato Akechi stesso Ci ha dato la possibilità Di contrattaccare Ha commesso Un errore fatale Non potevate dire Dall'inizio Il vero colpevole Era Akechi Non potevamo dirlo E basta Non potevamo Farti sospettare Di Akechi Tra l'altro Né tu Né gli altri Investigatori Avresti chieduto Una cosa del genere No? Vero Akechi ha il merito Dell'arresto Dell'altro fantasma E anche io Penserei Che sia un criminale Detto altrimenti L'avete lasciato stare Volontariamente Una mossa coraggiosa Santo cielo Non riesco a stare Dietro a nulla Ma allora Quale sarebbe L'errore Di Akechi Di Akechi Cosa ha fatto? Si è tradito Con la voce Di Morgana Il nostro gatto Sì Morgana sa parlare Tanto ormai Vorrebbe essere una battuta Oh le nostre scuse È assolutamente vero Sei sorpreso? Significa che Ha appena detto qualcosa Ma non lo capisce Era così anche con noi All'inizio Quando sei nel metaverso Mona parla normalmente Quando lo senti Il tuo cervello Accetta il fatto Che possa parlare Cominci a capirlo Anche tu È con ogni probabilità Un cambio di cognizione Abbiamo capito Abbiamo capito Che c'era qualcosa Che non andava Grazie alla pessima Recitazione Di Akechi Pancake Durante il festival Akechi ha fatto finta Di sentire la voce Di Mona Per la prima volta Ma si era già Tradito molto prima Oh So io dove andare Parlo di quel posto Da forma di Pancake gigante Che abbiamo visto prima Ed ecco perché Ho messo nella copertina Di quell'episodio Pancake Oh forse mi sbaglio Credevo di aver sentito Parlare di Deliziosi pancake Tan 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 Mona è stato l'unico A parlare di pancake Quindi Akechi Era già stato Nel metaverso Prima di allora E siccome aveva mentito Su quello Abbiamo pensato Che ci avesse contattato Per un'altra ragione Io c'ho Un piccolo Una piccola parentesi Però qua Tecnicamente Tu accetti Il fatto che Morgana Parla perché Lo senti parlare Nel metaverso Ma quindi O Il fatto che Senti parlare Mona E accetti che sa parlare E quindi È sbagliato Quello che dicono Di Akechi O entrando nel metaverso Morgana parla in automatico E quindi dopo che ne esci Lo senti parlare Questo è un piccolo Secondo me Punto che non è stato chiarito Ripensandoci È sempre stato strano La sua reazione Pancake Era spontanea In fondo Siamo stati fortunati Detto questo Non siamo stati Così ingenui Da non notarlo Per questo Abbiamo chiesto Futaba Chan Di piantare una cimice Nel suo telefono Ho finto Di essere interessata Al suo telefono Ma stavo installando L'app Il cuore Mi stava scoppiando In quel momento Però Neanche quel genio Delle indagini Si aspettava Un simile maneggio Informatico La durabile stramberia Di Futaba Ha aiutato La nostra Essa Ha aiutato Anche essa Stavo recitando Dopo qualche giorno Di ascolto Questo ha confermato Il tradimento Guiderò la polizia Nel suo palazzo E farò arrestare Fragrante I ladri fantasma Visto i loro metodi È l'unico modo Per catturarli Dopo Mi occuperò di loro Vediamo Potremmo dire Che hai rubato L'arma della guardia E si è suicidato Durante la prigionia Che dite L'interrogatorio Della pubblica sicurezza Sarà il giorno Il primo giorno E in quella stanza Avrò gioco facile Ma come è possibile Sì La guardia Sarà dei nostri Però dovremmo eliminarla Per distruggere le prove Volevano liberarsi Di quella guardia Sin dall'inizio Va bene Farà in modo Che succeda Il giorno dell'arresto E così Il pericoloso criminale Responsabile Degli arresti mentali Porrà fine Alla sua vita Lei diverrà l'eroe Che ha salvato il Giappone Da questo male Come me D'altronde Sapevo che si comportava In modo strano Ma pensare Che ci fosse questo Dietro Non è un detective Provetto Akechi è il colpevole Dietro quei casi Di arresto mentale Inoltre C'è qualcun altro Che dà ordine ad Akechi Qualcuno Con grande autorità Al punto da ordinare Un omicidio In una stazione Di polizia Per questo Abbiamo dovuto Muoverci Prima di loro Capisco Ah si si Ci sono Ci sono Abbiamo attirato Akechi Nel palazzo di Sai Facendogli credere Di aver ucciso Joker E non una copia Scusa Puoi spiegare meglio Cosa avreste fatto Nel mio mondo cognitivo Chiediamo scusa Per averti usato Senza permesso Il tuo palazzo Aveva tutto ciò Che ci serviva Cioè Come prima cosa Ci serviva un posto Nel mondo cognitivo Identico a quello reale E qua ti fanno vedere La prima volta Il mondo reale E il palazzo di Kamushida Quel posto è basato Sul mondo reale In fondo Chiunque non sia contorto Sembra normale Per questo Solo chi usa il navi Capisce di essere nel metaverso Al tempo di Kamushida Ci siamo entrati Dalla stazione Senza nemmeno Rendercene conto Non prima di essere a scuola Se non ci sono distorsioni Le differenze Non le noti La nostra esplorazione Del palazzo di Nijima Era già completata Quando Makoto Ha suggerito il piano Un suggerimento Che mi ha colpito veramente A essere sinceri Non l'ho capito molto Ma mi sono fidato Era un'ottima idea Già Siamo fortunati Ad avere lei Come capo delle operazioni Makoto d'attitudine E' uno specchio Da Quaketa Ma quando ha deciso Diviene tempesta Diciamo che Con Akechi Si è formata Una certa Qual rivalità Ma quando sei diventata Un bersaglio Sorella Non sono più riuscita A trattenermi Guarire il tuo cuore E' il motivo Per il quale Mi sono unita E ladri fantasma In fondo Mi importava solo Raggiungere i miei obiettivi Ero disperata Fuori di me Scusami se non me ne sono accorta Vale per entrambi Makoto-chan Ci ha detto che tu Avresti condotto L'interrogatorio Nijima-san E quanto al posto Immagino che tu L'abbia dedotto Dai dati presi Dal mio pc Sì vero Scusami Continua Controllando nel metaverso Abbiamo curato due cose Innanzitutto I nostri vestiti Non cambiavano Nella stanza Degli interrogatori In secondo luogo Panorammi e dettagli Al di fuori del palazzo Erano gli stessi Del mondo reale Quando Makoto ce l'ha detto Di nascosto da che Ci siamo andati a controllare Avevamo bisogno anche Di un'altra cosa Perché il piano funzionasse Una sua perfetta Copia cognitiva Nella sala interrogatori Del metaverso Visto che doveva ancora Essere catturato Non ci sarebbe stato Nessuno in quella stanza Vedere gli ospiti Del casino E gli altri agenti Della polizia Ci ha convinto Che potesse funzionare Sembravano identici A delle persone viventi Dopo il che Dovevamo solo Entrare nel palazzo Come nostro solito Tenendo a che Gelo oscuro Tutta sta spiegazione Se non stai dietro È veramente un casino È andato tutto liscio Finché non abbiamo Sconfitto l'ombra di Sae Ma in quel momento Siamo caduti In una terrificante Inaspettata imboscata Della polizia Di conseguenza Anche se avesse Avevamo il tesoro Non potevamo uscire Dal metaverso Ma Era tutta una finta Avevamo preparato Una valigetta vuota E abbiamo solo Fatto finta Di prenderla Perché sapevamo Che la polizia Si sarebbe venuta a prendere Abbiamo aspettato Che la polizia Fosse in posizione Prima di cominciare L'assalto al tesoro E Akechi ha boccato Come previsto La cattura di Pionix Da parte della polizia È andata come previsto E io Ho condotto L'interrogatorio Senza saper nulla Di tutto questo Ma come avete fatto Ad attirare Akechi In quella versione cognitiva Della sala interrogatori Mi servivano solo Le coordinate Ha usato il portatile Per entrare nel metaverso Da remoto Chiederle come Allungherebbe troppo La conversazione Lo farò più tardi Akechi ha sparato La copia del palazzo E se n'è andato Pensando di aver vinto Una scena veramente divertente Per il nostro leader Seduto tranquillamente Nel mondo reale Tranquillamente Un paio di palle Mi hanno menato Si deve essere sentito Soddisfatto di se stesso Di quella stanza silenziosa Ecco perché Mi hanno dato Il suo telefono L'ho preso Solo per via Delle sue parole Peccato Non aver potuto Assistere personalmente A tale spettacolo Sono felice Di essere vivo Cercavo soltanto Di gestire i messaggi Che hanno cominciato Ad arrivare sul telefono In altre parole Per un istante Sono stata nel metaverso E questo è il punto Lei non ha visto Morgana E ora non lo sente parlare Ma Akechi neanche L'ha visto Morgana Però lo sente parlare Quindi L'ipotesi è Akechi Aveva già visto Morgana? Punto di domanda Da quello che sappiamo Non c'è pericolo Nell'entrare nel proprio palazzo Per breve tempo Questa è un'altra ragione Per cui te l'hanno dato Dovevi ascoltare Alibaba Ingannare la guardia Aiutarlo a fuggire Facendoti tornare Nella sala degli interrogatori Potevamo anche riportarti Nel mondo reale Insomma Dovevo tenerti occupata E saresti piombata Su Akechi Mentre compieva l'omicidio Sono senza parole Non avevo idea Che una simile operazione Forse è in corso Dentro di me Sono felice Che Phoenix Sia riuscito a convincerti Durante l'interrogatorio Pur conoscendo il piano di Akechi Quella parte ci metteva un po' in ansia Esatto E perché? Senza sede la nostra Il piano di Futabe La conseguente fuga Non sarebbero stati possibili La nostra più grande scommessa È stata su Joker Care sulle sue capacità persuasive Non potevamo contattarti Prima sorella Era il punto di svolta Dell'intero piano Sono sorpresa Che tu sia riuscito A convincermi così velocemente Eri sicuro di farcela? Droga Non ricordo Comprensibile Non riesco comunque a credere Che abbiate messo in atto Un'idea così rischiosa Se fossimo riusciti A rivelarti i piani Del vero colpevole Avresti compreso L'intero quadro Che Phoenix Non stava mentendo E che c'è un male maggiore Da inseguire Che E come risultato Ci siamo ersi fieri Di questa vittoria Me l'hai mantenuto nascosto Perché volevi catturare Il vero colpevole Non è così Esatto Inoltre Non avevi il controllo Di te stessa In quel momento Stupefacente Riesco soltanto a ridere Ho capito che avete fatto uccidere Un falso da Kechi Ha il corpo Esatto Bravo Sojiro La polizia non l'ha nemmeno controllato Eh? Un medico legale ha fatto sì Che la morte di Phoenix Venisse considerata suicidio Il medico non è neanche entrato nella sala Ha solo firmato un falso certificato di morte I cazzi vieno veramente Tutta questa influenza Un omicidio in una stanza di polizia Da nell'occhio Sapevamo anche di un possibile complice Alla fine ho capito Grazie ai messaggi di Futaba-chan E al comportamento della guardia E visto che le alte sfere della polizia Non ne sanno nulla Sono allo sbaraglio E come da pieni di Akechi I medi hanno dato la notizia Al suicidio di Phoenix Grazie a quella confusione All'aiuto di Jima-san Lui è riuscito a scappare Ho fatto in modo che nessuno Cerchi del cadavere in obitorio Nessuno sa che è vivo Ripensando all'interrogatorio Non riesco a credere cosa abbiano fatto a Phoenix Un simile uso di violenze e droghe è normale Sarebbe morto se avesse perso conoscenze Senza dire nulla assai del telefono Sono felice che tu sia tornato sano e salvo Phoenix Non ricordo molto purtroppo No, non devi ricordare cose del genere Vedere la notizia del suicidio comunque Mi asco in volta Abbiamo cercato di comportarci come sempre Durante l'interrogatorio Per non destare sospetti Anche così però Ho continuato a preoccuparmi per lui Io sapevo dall'inizio che avrebbe funzionato Io volevo avere fiducia Ma considerando i nostri avversari Ryuji è un po' duro di comprendonio Ma spensierato Piantala gatto Dovevo essere paziente Ed evitare questo posto Finché le cose non si fossero calmante Mi sento meglio Sapevamo che eri vivo Però è stato un grande travaglio Non pensarci fino al tuo ritorno Ora che ci penso L'interrogatorio non è stato altro Che una formalità per il mio comandante Che scherzo crudele Lasciarmi interrogare un condannato a morte Volevano evitare reazioni E sia D'ora in poi farò il possibile per darvi una mano In fondo mi avete salvata È bello sentirlo Anche io farò il possibile per aiutarvi Fatemi solo sapere come Per ora prendiamoci una pausa Sono troppo vecchio per questa roba Oh e quando volete trovarvi per parlare Usate pure il piano terra Vi servirà un ritrovo sicuro Ditemelo e chiuderò prima Sei sicuro? Lui non può uscire E non sarebbe bello se la gente vi sentisse dalle scale Questo posto non è comunque il più frequentato della città Non ci perdo molto Che cosa triste su giro che hai detto Accettiamo la sua offerta Che uomo dal cuore nobile Eh già Eh sì è proprio bravo su giro Il riassunto della storia fino a questo momento è stato aggiornato E io sono sfinito Sono quattro ore che sto facendo questi episodi Phoenix star Anche di familiare Sono io Akechi Entra Quello è il certificato di morte del nostro criminale Giusto? C'è qualche problema? No Niente di particolare Cosa più importante Sei stato in gamma con i procuratori Hanno stabilito che il decesso del direttore del WIS È stato caso di un ictus Devo averlo stressato un po' troppo facendogli contraffare quelle prove Una perdita davvero dolorosa E grazie ai suoi sforzi che sono riuscito a entrare nella sala degli interrogatori del Ladri Fantasma WIS è allo sbando dopo la sua morte Nominerò un successore soltanto dopo le elezioni A ogni modo tutti ora mi considerano un eroe E lo devo soltanto ai Ladri Fantasma Tutti i possibili ostacoli sono stati eliminati È indubbio che le elezioni saranno mie Ah 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 me la rido perché sono il cattivo La prossima notizia Le elezioni improvvisa della Camera degli Rappresentanti La scadenza per la presentazione delle potenziali candidature si sta avvicinando tra le polemiche I candidati verranno annunciati il 23 di questo mese Mentre il voto avrà luogo il 18 del mese prossimo Elezioni eh Beh noi non c'entriamo non possiamo neppure votare Riprendiamo la nostra conversazione Va bene io spengo I Ladri Fantasma sono di nuovo insieme Possiamo attaccare Akechi e il bastardo dietro di lui Avete scoperto di chi si tratta? Akechi ha fatto sfuggire dopo l'omicidio Ha detto Shido-san Shido? Ho già sentito quel nome Di certo è un uomo che possiede un notevole potere Se ha forti legami con le forze dell'ordine Shido? Se fosse Masayoshi Shido Chi? Credo che sia un politico Ricordi Ryuji ti lamentavi del volume della sua voce Davvero? È di certo possibile che Shido sia la mente di tutto Eh? Hai delle prove? Nulla di materiale ci sono però vari elementi che concordano con questa possibilità Dica Innanzitutto Trarrebbe vantaggio dei danni portati dai raptus all'attuale amministrazione Ha preso posizione contro i Ladri Fantasma Guadagnando una popolarità travolgente Inoltre se vincesse le prossime elezioni potrebbe diventare primo ministro No! Ci ha teso una trappola per manovrare le elezioni Se c'è lui dietro tutto questo sarebbe di forte contrasto con la sua immagine onesta Per cui la sua posizione attuale e la sua popolarità sono ottenute grazie ai collassi mentali Avrà un risveglio del cuore Costi qualche costi Mamma Ah che cazzo Shido eh? Che succede? Lo sentivo che c'entrava qualcosa Vecchi contatti del mio lavoro precedente Probabilmente è stato Shido a distruggere la ricerca di Wakabo e confiscare i materiali Quando Wakabo è morta qualcosa mi diceva che ero coinvolto Ma non c'era nulla che potessi fare per cui scesi di nascondermi per proteggere Futaba Perché non me l'hai detto? Se te l'avessi detto vi stereste scagliati subito contro di lui Vi avrebbero uccisi tutti senza dubbio E' quello che fa chi si mette di traverso All'inizio indagavo sui casi degli arresti mentali E' stato così che ho scoperto le ricerche governative sui Raptus Ho quindi cominciato a cercare i dati delle ricerche e ho incontrato le persone coinvolte Il capo era una di quelle Non avrei mai immaginato che tutto questo fosse collegato Arresti mentali, Raptus, Shido, le azioni dei ladri fantasma All'epoca Shido diceva che sarebbe diventato primo ministro un giorno Nessuno gli credeva Cosa succederà a questo paese se Shido diventa primo ministro? E al mondo? Le cose sono ben più semplici E' solo un altro adulto egoista che vuole imporre la sua volontà sulla popolazione Smascheriamo quel bastardo Sì, lo fermeremo, come sempre Allora controlliamo il navigatore Ci penso io Masayoshi Shido, il tizio di in corsa per diventare primo ministro C'è un riscontro Beh, grazie, è ovvio che abbia un palazzo E quale sarà il luogo? Cosa passa per la testa di un politico? Mi vengono in mente solo azioni losche e denaro sporco Cosa fa? E dove? Che non sappiamo nulla della vita di questo qui Il suo palazzo deve essere in un posto frequentato da politici Qualche idea, Phoenix? Il palazzo della dieta Questo me l'ha insegnato il nostro amico Yoshida Grazie Abbiamo un riscontro Quanto deve essere arrogante per considerarsi ingegnore del palazzo della dieta Il nostro prossimo obiettivo è un potente politico Masayoshi Shido Ce la faremo, giusto? Dobbiamo Cavolo, sì Tutti d'accordo? Certo Un avversario temibile Dobbiamo vincere Insieme È l'ora della vendetta La decisione è unanime Ora non ci resta che scoprire qual è la sua cognizione del palazzo della dieta È così che quell'app mi ha permesso di entrare nel metaverso Vecchio Bakuk come me non capisce nulla di questa roba Dobbiamo occuparci prima del giorno delle elezioni Il 18 dicembre Perciò entro il 17 Ci conviene sbrigarci Prima che si accorgano che manca il cadavere all'ubitorio Iniziamo domani quindi Possiamo incontrarci davanti al palazzo della dieta Subito dopo la scuola E a tal proposito Come farai con la scuola? Non puoi presentarti così Visto che dovresti essere morto Kawakami ha detto che era tornato a casa per motivi familiari È ciò che ho detto io alla scuola Allora non facciamogli scoprire che sei ancora vivo, ok? Altrimenti sarà stato tutto in vano Che intendi dire? Quest'operazione ha un altro scopo Oltre a quello di sfuggire alle grimpie di Ekechi Shido ha cercato di far ricadere la colpa sulla del fantasma E al contempo ingannare il pubblico Ha rovinato innumerevoli vite E ha fatto sì che Ekechi, uno studente Lo assistesse negli omicidi Un mero risveglio del cuore sarebbe una pena troppo clemente Per un criminale del genere Sfrutteremo la dichiarazione della polizia Sul suicidio del leader dei ladri fantasma Quando tutti lo daranno per morto Lui uscirà allo scoperto Per dare una dichiarazione al tisonante Dirà che è sfuggito alla prigione Che non si è suicidato E che è stato quasi ucciso da un criminale Daranno tutti di matto Come siete riusciti a pensare a tutto questo? Sono intellettuali sai? Ecco perché vi serviva un inganno udace come quello Per farsi catturare e per poi fingersi morti Voi ragazzi siete temibili Ma la vera battaglia è appena cominciata Abbiamo vinto il primo round Ma dobbiamo vincere... Ma dobbiamo restare allerta Già, non è ancora il momento di festeggiare Hanno tentato di intrappolarci e ucciderci Non c'è fine alla loro natura subdola e disumana Dobbiamo essere pronti al peggio Esatto Finalmente ce l'ho fatta Sono già passati due anni e mezzo dal nostro incontro Ai tempi conquistò i media come un giovane politico Pronto a combattere la burocrazia Per questo hanno tentato di incastrarla Nel tentativo di sbarazzarsi di una figura scomoda Pensare che sarei cascato nei complotti di quei folli poi decrepiti al potere E allora che sei venuto da me Ti sei fatto avanti dicendomi di avere dei poteri Se non fosse stato per le ricerche cognitive in cui mi dilettavo Ti avrei preso per pazzo Ho reso che fastidioso avversai degli psicopatici Ho cancellato ogni traccia dallo scandalo Chi avrebbe creduto che manipolare il cuore potesse causare un crollo psicotico Un arresto mentale E quando uno così ha detto che mi avrebbe appoggiato Ho sospettato che potesse avere un secondo fine È perché simpatizzavo per la sua ambiziosa ideologia Credevo che i suoi ideali andassero attuati per il bene del futuro del paese Beh, è stato proprio la mia fiducia in te Che mi ha spinto a staccare la spina a quella ricerca Solo tu dovevi avere quel potere Se lo avesse scoperto qualcun altro sarebbe stato un guaio Wakaba Ishiki, vero? Quella ricercatrice Non sarebbe morta se ci fosse limitata a collaborare Qualsiasi sospetto deve essere soffocato Anche il più piccolo dubbio va stirpato alla radice Del resto, fino a poco fa avevamo un direttore dell'ufficio del procuratore della nostra parte Sorprendente, eh? Pensare che il direttore in persona falsificasse le prove per assicurarsi a poltrona È rimasto sorpreso quando io ne ho parlato Non sapeva chi avesse fatto trapelare l'informazione Beh, l'ho presa dalla sua ombra, perciò tecnicamente è stato lui stesso a farlo Gli affari di questo paese ormai ristagnano Il mondo della politica è pieno di vecchi che agiscono solo per salvaguardare i propri interessi Il pubblico ha abbandonato certe questioni politiche E non se ne cura La rubina è vicina Sono d'accordo Non possiamo lasciarci trascinare a fondo da questi idioti incompetenti Rilancerò questo paese Il mio ostacolerà andrà eliminato È questo il miglior modo per sfruttare il metaverso Tuttavia, si noterebbero se ci fosse altri morti o scandali tra i suoi avversari politici Ecco perché li ho resi solo dei sospettati Incriminare gli obiettivi resi psicotici dal sottoscritto E trattarli come casi alle estranei E così è nato il mito del grande detective carismatico Grazie ai tuoi sforzi, la mia immagine resta immacolata E ho manipolato l'opinione pubblica Conquistata quest'ultima, alla mia portata si sono presentati collaboratori di ogni campo Persino la polizia Una volta assicurato il suo controllo, tenerla a bada è stato uno scherzo Quando i ladri fantasma sono saliti alla ribalta ho temuto che le cose sarebbero potute mettersi male Ma una volta indagato abbiamo scoperto solo un branco di moziosi Ci è bastato addossargli la colpa Quando me l'ha detto è lì che ho capito che lei fosse l'uomo giusto La loro popolarità mi ha un po' spiazzato Ma rivoltagli la contro ha rafforzato la stampa ostile In seguito mi è bastato schierarmi pubblicamente contro di loro Da allora ho sempre più sostenitori L'attuale amministrazione è spacciata per via degli scandali E ignara che sia stata tutta opera mia Persino i partiti del governo si stanno smembrando e dissolvendo come ho pianificato Ormai ci siamo Un ultimo sforzo e mi assicurerò la poltrona di primo ministro Tuttavia non mi accontenterò di quello Sarà solo l'inizio di ciò che verrà Renderò ricco questo paese per il bene delle sue masse ignoranti Egoiste e sfruttatrici In altre parole sta cercando un potere nazionale in grado di competere con il resto del mondo L'opinione pubblica concorda con i miei ideali e mi sostiene E a tal fine certi sacrifici non possono essere evitati È il mio dovere come prescelto La tua assistenza è stata fondamentale per portare a compimento i miei piani Appena diventerò primo ministro soddisferò ogni tuo desiderio Grazie all'ultimo caso il mio nome è diventato celebre in tutta la nazione Forse persino nel mondo La mia storia verrà tramandata come quella di un eroe che ha battuto i mostri che lo manipolavano i cuori Credo che me ne starò buono dedicandomi ai miei studi Immagino che vista la tua età tu non abbia interesse in certi desideri dissoluti Sto pensando al mio futuro però Beh assicurati una poltrona Pare che le cose si siano finalmente sistemate Da domani avrai molti impegni vero? Riposa un po' Il capo ha ragione oggi rilassiamoci Beh dopo tutto sto casino hai voglia che mi rilasso Grazie a tutti